...di fare operazioni di carattere diverse, lo faccio con l'amarezza di tifoso, ma anche con grande serenità, perché... ...di una critica a una presidenza di una violazione sportiva, abbiamo sentito un profumo... ...e allora non lo metto... ...non lo metto... ...non lo metto, non lo metto... ...che ha fatto lì già? ...non lo metto... ...non lo metto, non lo metto... ...non lo metto... ...non lo metto per andare a una secchezza della versione... ...non lo metto... ...non ho visto... ...non lo metto... Grazie